Bolzano, Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. In un'aula gremita, più di 150 persone hanno preso parte al dibattito Reflecting on Europe, organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni. A fare gli onori di casa, il Presidente del Consiglio regionale, Thomas Widman. Penso che si debba sempre parlare di Europa, perché Europa è molto importante, perché abbiamo visto con i profughi, con le problematiche dei profughi, anche può cambiare completamente. E c'erano già delle misure per far sì che il Brenno diventasse di nuovo un confine. E questo in un'Europa unita, in un'Europa delle Regioni, dobbiamo dare veramente un messaggio molto forte che questo non lo vogliamo. L'incontro a Bolzano è il primo in Italia di un percorso voluto dal Comitato Europeo delle Regioni e organizzato con la conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome. L'Europa delle Regioni è l'unica Europa possibile, perché con più sarà valorizzato e tutelato il ruolo delle Regioni e dei territori, con più si rafforza il ruolo e la visione dell'Europa. Presente nel capoluogo alto tesino il Vice Presidente del Comitato delle Regioni, Karl Heinz Lambert, che ha sottolineato l'importanza delle Regioni in un'Europa sempre più in cambiamento. Il coordinatore della conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali Italiane e Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacop, ha posto l'accento sulla necessità di riflettere sul futuro dell'Europa partendo dal basso e cioè dalle Regioni. L'Europa è messa in discussione nei suoi principi fondamentali, i principi che hanno ispirato appunto 60 anni fa la firma del Trattato e quindi è importante oggi riflettere sull'Europa per riprenderne i contenuti, per riprenderne gli ideali e per riprendere soprattutto quel dialogo e quel percorso che ricoinvolge nuovamente i cittadini e i territori nel progetto europeo. A stimolare il dibattito è stato il giornalista Enrico Tibuzzi responsabile di ANSA Europa. I giovani studenti universitari di Trento e delle scuole superiori di Bolzano hanno posto l'attenzione sulla necessità di rilanciare una vera coscienza europea. Le domande principali sono quelle cosa si stia facendo oggi per i giovani in Europa e soprattutto studiare un po' di più le politiche giovanili, ampliare un po', dare un po' di speranza ai giovani italiani che vanno all'estero perché non vedono un futuro oggi in Italia. L'Europa può essere una buona opportunità perché ci dà la possibilità di conoscere più persone, più culture, più lingue e conoscendo più persone, più lingue ci dà anche la possibilità di aprire nuovi orizzonti e quindi anche essere ben disposti alla collaborazione tra i giovani ma non solo, quindi anche avere maggiori possibilità dal punto di vista lavorativo. Erasmus per noi è stato fondamentale per aprire un ponte, un ponte tra paesi di cultura e tra paesi diversi. Per noi giovani viaggiare è stato fondamentale al fine di conoscere, integrare e trasmettere la nostra cultura al fine di creare un'identità europea basata sul rispetto. Juan Pablo Durán Sanchez, presidente del Parlamento dell'Andalusia e presidente della Calre, ha risposto ad alcune domande incentrate sul futuro dell'Europa in un'epoca caratterizzata da continue modifiche di antichi equilibri. Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia e membro del Cor, ha evidenziato il valore dell'Europa per garantire la pace come negli ultimi decenni. Il dramma dell'Europa è che è calata da Bruxelles in modo burocratico e che la gente sente distante da sé, incapace di risolvere i propri problemi. L'alternativa è ripartire dal basso, è l'Europa dei popoli e delle regioni. Marco Canaparo, della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. Siamo a pochi giorni ormai da una data importante, che è il 25 marzo, che rappresenterà il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma. Quindi è un punto importante di celebrazione di quanto finora l'Unione Europea ha fatto. Il presidente della regione Trentino Alto Adige, nonché presidente della provincia di Bolzano, Arno Compaccer, ha parlato di un'Europa che è questione di cuore prima che di mente. Per noi, su Tirolesi e altri tesini, l'Europa era sempre la possibilità per superare queste logiche, per avere la possibilità di circolare liberamente, di vivere in un contesto che prescinde dalla pattenenza a un gruppo linguistico, a una nazione, ma che invece proprio vive dalle diversità e ne trae poi anche un beneficio. Michela Fanelli, sindaco di Riccia, membro del Cor, ha colto l'occasione per sottolineare il valore di un'informazione precisa rivolta ai giovani in tema di Europa. È importante far capire a che cosa serve in concreto l'Europa. Per dei giovani, per esempio, è molto astratto l'utilità quotidiana. L'ho detto con alcuni esempi. Un ponte finanziato dal FESR, un'attività didattica dal Fondo Sociale Europeo, l'Erasmus, nuove imprese agricole, l'innovazione nelle nostre imprese, gli start-up, sono tutti interventi che l'Europa finanzia attraverso il fondo di coesione, i fondi di coesione. Molti temi trattati, ma tra tutti è emersa la volontà di coinvolgere sempre più i cittadini nel processo di rilancio dell'Europa, un processo che, a detta di tutti, deve ripartire proprio dalle regioni.